Secondo giorno al Fionli, quali sono le vostre impressioni a riguardo? Siamo molto contenti di partecipare a questa manifestazione, abbiamo riscosso grande interesse da parte dei consulenti finanziari indipendenti per l'asset class certificati e soprattutto sulla nostra gamma di certificati. Quale prodotto della vostra gamma ha riscosso maggiori interesse da parte del mondo della consulenza finanziaria indipendente? Sì, sicuramente i tracker certificate, certificati tematici quindi legati a temi di investimento come la blockchain, i mercati digitali, l'invecchiamento della popolazione, quindi dei certificati della tipologia benchmark che sono dinamici e legati a un tema di investimento molto attuale, un mega trend. Quindi molto interessanti e la consulenza appunto ci spiegava che anche per il recupero delle minusvalenze l'asset class certificati può essere utilizzata nei più svariati modi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.